Freddo, pioggia, neve e ghiaccio. L'inverno è una stagione molto pericolosa per chi guida e ogni conducente dovrebbe preparare la propria automobile per evitare inconvenienti e per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Aldo sapevi che, in onda questa sera alle 20 e 20 con la conduzione di Marzia Foletti, esperti del settore daranno consigli utili per affrontare le difficoltà e le insidie di questa stagione. Per esempio, sapevate che le ordinanze invernali emesse dal Ministero dei Trasporti prevedono l'obbligo a montare pneumatici da neve o ad avere catene a bordo nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile, che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92-23 CE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti dal previsto marchio di omologazione, che dall'ordinanza sono inoltre esclusi moto e motocicli che potranno circolare però solo in assenza di neve e ghiaccio, che dispositivi antisrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito del Ministero dei Trasporti e su quello della Polizia di Stato. Massima attenzione anche per chi viaggia con i bambini a bordo. Per porre domande, proporre argomenti e chiedere informazioni si può scrivere a lo sapevi che? Chiocciolateleliberta.tv o via Twitter. Le puntate precedenti sono online sul canale YouTube di Tele Libertà.